Un tassello decisivo per sostenere l'importante attività del Centro per la cura della sordità del burlo. Si tratta dei laboratori di audiologia e delle opere impiantistiche complementari che sono state ricavate dalla riqualifica di una parte del secondo piano della palazzina ambulatori. Il tutto rientra nell'ambito dei lavori di riqualificazione degli edifici dell'istituto per la quale sono stati stanziati complessivamente 5,4 milioni di euro. Sono fondi regionali, sono fondi ministeriali, sono fondi propri, fondi che ricaviamo dal bilancio e che sono necessari assolutamente a mantenere l'istituto in sicurezza e in assoluta funzionalità fino al previsto passaggio nel comprensorio di Catinara, cosa che richiederà però parecchi anni. Si tratta dunque di un'area che potrà contare su zone di accoglimento e attesa con servizi igienici dedicati ed in parte attrezzati per i bambini, due ambulatori visite, un laboratorio per la videoregistrazione ed altri spazi e studi medici. Quelli inaugurati oggi, ma sono soltanto una parte di tanti spazi in cui abbiamo messo le mani, sono destinati da una parte all'attività ottonio-lingoiatrica, ma in particolare allo studio delle sordità con Natali, cioè i bambini che nascono sordi, e alla possibilità di impiantare delle protesi che li facciano sentire e gli garantiscono una vita del tutto normale. I lavori sono costati 590.000 euro, il burlo è provveduto con fondi propri per circa un terzo, il restante finanziamento è giunto dall'amministrazione regionale che ha contribuito anche alla realizzazione del nuovo spogliatoio nel piano interrato dell'edificio principale per una superficie di 250 metri quadri circa ed una capienza di 80 unità. Il spogliatoio del personale era un crucio per questa struttura, erano strutture vecchie che andavano in qualche modo riviste e rivisitate. Il fatto di poter aprire immediatamente 80-90 posti per spogliatoio vuol dire poter attivare tutta una serie di misure che renderanno più funzionali anche gli altri e dove sarà possibile rivederli, rifarli e metterli a norma anche quelli.